e cari amici tanti saluti da Serafino Massoni droghe droghe parliamo ancora di droghe perché ormai sembra che un italiano su tre un italiano su quattro faccia uso di droghe benché esse siano proibite oggi è domenica 25 luglio 2009 e ho sfogliato al bar l'inserto regionale del collega della Sera c'è un paginone dedicato alla questione delle droghe ma tutti i giorni ormai è così ecco qua io bella e timida vivevo per la droga e i miei genitori non ne sapevano niente un inferno ma per mamma e papà ero sempre una brava ragazza poi avvocatessa vuole dose a domicilio pago il taxi al pusher è più sicuro medico con ritmi di lavoro serrati sniffo ma so controllarmi sempre e ben medico questo povero medico dice anche che la droga e non so quale tipo di droga comunque gli serviva anche per essere più efficiente in sala operatoria poi poi ogni tanto si legge anche che le stesse qualcuno delle forze dell'ordine si droga qualcuno delle forze di droga magari per comprare la droga poi diventa egli stesso un pusher ma allora ma che cos'è questa storia che cos'è ma presto presto gli italiani saranno tutti drogati benché 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 le droghe siano proibite ma la questione è quella dell'uso non dell'abuso non dell'uso io devo ripetere per l'ennesima volta un passo dell'odissea qualcuno mi rimprovera che io ripeto sempre questo passo l'odissea però il fatto è che quando lessi l'odissea questo passo lo sottolineai ce ne sono tanti altri sulla droga tanti però non li ho sottolineati non posso leggermi qua 300 pagine vediamo un po cosa si dice nell'odissea è l'odissea relativamente all'epica micenea al tempo della guerra di troia beh o meno l'ha scritta l'odissea l'ha scritta 400 anni dopo comunque parla del periodo della guerra di troia parla di elena leggo leggo elena la figlia di zeus ebbe un'altra idea subito mise una droga nel vino che avevano da bere era una droga che calma il dolore fa dimenticare tutti i mali e chi la sorbisce quando viene mescolata col vino nel cratere per tutto il giorno non lascia scorrere lacrime giù dalle gote neanche se gli muore la madre il padre è giù che o mero continua a raccontarci le meraviglie dell'uso della droga le droghe doppio miscelato nel vino era una cosa normale nella grecia dei micenei poi poi nel corso della storia se n'è sempre fatto uso un po ovunque della droga c'era la famosa droga ai tempi di zoroastro di zaratustra e via di seguito ma allora gari bisogna distinguere tra uso ed abuso una cosa è l'uso poco vino fa bene uso del vino tanto vino fa male abuso del vino andare in macchina a una velocità moderata è uso dell'automobile andare ad una velocità eccessiva è abuso dell'automobile ma allora che cosa deve aspettare il parlamento ma il parlamento decida finalmente di liberalizzare l'uso delle droghe e si faccia poi una bella campagna di informazione sulla quantità sulla quantità che è uso non abuso una bella campagna di prevenzione in modo che la droga c'è essi di essere c'è essi di essere qualcosa che si acquista di nascosto che magari poi è anche tagliata cioè mescolata con sostanze nocive diventi lo stato il venditore della droga un simpatico blogger tempo fa tempo fa mi fece una simpatico osservazione e mi disse ma se viene legalizzato l'uso delle droghe allora che succede a tutti quelli che ci quelli della malavita che ci lavorano con la con le droghe no nel commercio delle droghe i pusher i malavitosi via di seguito e questi si mettono a si rivolgono ad altre altruità criminali ancora peggiori sì sì io ricordo cari amici e vi chiedo eventualmente di fare voi stessi una verifica che dieci quindici vent'anni fa e non ricordo bene sul settimanale l'espresso lessi un articolo di Umberto Eco Umberto Eco aveva tanti anni fa non so se ce l'ha ancora oggi una rubrica sull'espresso che stava proprio all'ultima pagina si chiamava la bustina di Minerva non so se c'è ancora questa rubrica perché sono tanti anni che non la leggo più e non lo leggo più l'espresso però voi potete fare la verifica non so se ci riuscirete a dare a vedere quella rubrica dove cioè quella settimana non so dieci quindici vent'anni fa non ricordo in cui Umberto Eco diceva la stessa cosa diceva ma se noi legalizziamo l'uso delle droghe e che succede cosa faranno più quelli che che stanno dentro al commercio delle droghe e cosa fanno cosa fanno e poi mi pare che disse pure pure i carabinieri i poliziotti i finanzieri avrebbero la guardia di finanza avrebbero anche non avrebbero quasi più niente da fare perché in pratica tutto tutto la malavita è tutta concentrata sulla droga va bene guardate io a quel blogger che mi fece questa osservazione che era analoga all'articolo di Umberto Eco io risposi a questo blogger caro tu mi fai una provocazione e io ti rispondo con una provocazione vediamo un po' qual è il male minore seguiamo la via del male minore come dicevano i gesuiti i gesuiti dicevano se non puoi conseguire il bene non stare fermo ma cerca di conseguire almeno il male minore quale sarebbe il male minore che lo stato e legalizzasse l'uso delle droghe facendo anche un'adeguata campagna preventiva informativa su qual è l'uso moderato qual è invece l'abuso e via di seguito quindi poi diventerebbe gli stesso come fa con le sigarette con gli alcolici super alcolici e poi e la malavita ma semplice si fa niente e a quelli che attualmente sono nel commercio della droga gli si dà l'autorizzazione a aprire un piccolo negozio un negozio dove si vendono le droghe va bene si deve fare di necessità virtù se qua tutti i giovani si drogano e magari sono anche incentivati a drogarsi per il fatto che la droga è vietata è proibita e loro percepiscono il drogarsi come un atto di sublime ribellione e vabbè togliamo togliamo questa aspettativa di sublime ribellione e legalizziamo l'uso delle droghe tanto ormai chi ne vuole fa l'uso la compra tanto ormai chi vuole la droga la compra lo stesso in maniera clandestina dalla malavita allora autorizziamo l'uso delle droghe e ci preoccupiamo per il fatto che i malavitosi poi vadano a inventare nuovi reati ma niente li lasciamo al loro posto si fa un accordo e si dice tu diventi uno spacciatore legale di droga avrai delle regole però lo stato avrà la sua parte e lo stato con la sua parte con la sua parte farà dei centri di informazione di prevenzione di disintossicazione di cui il male minore il male minore ma questo lo dico per rispondere a Umberto Eco e a quel blogger di cui mi dispiace ma non ricordo il nome ma il commento esiste sempre sul sito e che mi disse ma se liberalizziamo le droghe e poi la malavita si rivolge ad altri reati no 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 si fa politica realistica tanto ormai chi vuole la droga se la compra se la compra è a portata di mano cerchiamo di legalizzarlo in modo anche da tranquillizzare i genitori che sanno che i loro figli la droga non la comprano da uno spacciatore magari anche incompetente o anche poco rispettoso della composizione della bustina che vende diamola diamola agli stessi malavitosi vivranno di droga cioè vivranno vendendo la droga ma al servizio dello stato è assurdo tutto ciò lo so se pare assurdo però questa mia risposta è per appunto chiarire a quel blogger che ci può essere una soluzione per evitare che la malavita privata della droga inventi delle malefatte ancora più grandi va bene cari amici comunque il discorso relativo alle droghe punta sempre nella direzione di distinguere tra uso e abuso come per la guida dell'automobile andare a una velocità moderata e uso dell'automobile andare a una velocità eccessiva e abuso così per la droga così per gli alcolici così per una dose moderata moderata omero odissea va bene cari amici grazie e a tutti voi tanti saluti da serafino massimo